Ciao Nino, Nino Frassi, ma l'avete visto? Quanti anni sono passati? Ma quando venivo la mattina presto presto nel suo film di Arbore al Pincio? E tu avevi lo stecchino nell'occhio? Verissimo, verissimo. E allora invece ora siamo a Taormina, al 59esimo Film Festival di Taormina e lui è con un film delizioso che si chiama Ragazze a mano armata. Per la regia di Fabio Segatori, le protagoniste sono tre ragazze e io faccio una partecipazione, sono il consigliere di una delle tre. Famoso consigliore. Esatto. E cosa fai dentro in questo film? Di professore faccio il pasticcere, quindi per imparare questo ruolo ho dovuto studiare 12 mesi in Canada. da un famoso pasticcere canadese, ho imparato a fare il pasticcere, così poi ero pronto per ricoprire questo ruolo. Ma è vero che c'è un doppiatore, tra virgolette, uno che ti sostituiva? Uno stuntman? Sì, sì, c'è un cascatore che quando si vedranno dei giochi di destrezza della pasta, non sono le mie mani ma sono mani altrui. Nino, tu mi hai sempre detto che questa cosa, che tu se abbi un film e leggi un film che ti piace o vedi un film che ti piace, anche una piccolissima parte ma la vuoi fare? Io veramente amo il cinema, mi sento in credito con il cinema perché secondo le mie possibilità avrei potuto fare di più, invece ho fatto di meno e ho fatto più televisione che cinema, però naturalmente non rimpiango neanche la televisione che ho fatto. Però se ritornassi indietro distribuirei meglio il mio tempo. Ecco, a proposito di televisione, in debito, Don Matteo è un'istituzione, ora Don Matteo 9? Quindi tranquillo, continuo, non abbandono, non lascio, vado avanti e quindi do molto, però è anche vero che proprio perché anni e anni e anni di Don Matteo ho fatto meno cinema. Ok, ma la regia si sarà di chi per questo Don Matteo 9? Matteo 9, in questo momento è Monica Vullo, Monica Vullo, e poi stiamo a aspettare altri registi. Saremo in palpitante attesa, e allora ciao a Frassica e grazie di questo cameo. Prego, complimenti per il programma.